Il culto rivoluzionario è la religione, qual'era la religione un po' prima e durante la rivoluzione francese? Si volle scristianizzare la Francia, cancellando la religione tradizionale e sostituendola con culti nati non più dalla fede cieca, ma dalla ragione o dalla passione per eroi della rivoluzione. Ecco dunque sorgere il culto di Marat, il rivoluzionario pugnalato da una giovane monarchica. Marat venne considerato un martire e paragonato a Cristo, caduto anche lui sotto i colpi del fanatismo per la salvezza del genere umano. Le madri insegnavano ai figli il Vangelo di Marat, leggendo le sue opere. Ma più diffuso era il culto della dea Ragione, cui venne consacrata la catedrale di Notre-Dame, divenuta chiesa della Ragione. Il giorno della sua festa, in tutte le città francesi si formava un corteo. In testa una donna rappresentava la dea, vestita di bianco, con un mantello rosso e una lancia ornata di nastri tricolori. Essa era trasportata su un carro condotto da Sanculotti, col berretto frigio e la picca, e seguito dalla banda musicale. Giunta sulla piazza della città, la dea saliva su un palco e liberava alcune colombe tra gli inni alla libertà cantati dai cittadini. Molti accettavano i nuovi culti, ma non mancavano gli oppositori alla scristianizzazione. Robert Spierre, ad esempio, sosteneva la necessità che il popolo potesse credere in un essere supremo. La prima celebrazione ebbe luogo il 20 Pratile, cioè l'8 giugno, 1794 e Robert Spierre stesso guidava il corteo. I giornali La diffusione delle idee rivoluzionarie e delle innovazioni portate dalla Convenzione nazionale avveniva soprattutto per mezzo dei giornali. Pensate che nel 1790, nella sola Parigi, se ne stamparono 335. Ma direte voi, non abbiamo forse visto che la maggioranza della popolazione francese era analfabeta? A che servivano? Ciò rimane vero. Nella costruzione del 1793 si imponeva però l'obbligo dell'istruzione elementare, anche se ben pochi erano in grado di rispettarlo. In città i bambini lavoravano, in campagna, d'inverno, quando i campi riposano. Ci sarebbe stato il tempo di imparare, ma le scuole erano troppo lontane, e inoltre, i maestri malpagati erano spesso ignoranti. Tuttavia i giornali avevano buona diffusione perché chi aveva la fortuna di saperli leggere, li leggeva ad alta voce. La famiglia Altra conquista della rivoluzione fu il divorzio. Già alcuni luministi avevano sostenuto che il matrimonio doveva portare nella vita dell'uomo una stabilità favorevole alla sua felicità e al suo progresso. Se ciò non accadeva, occorreva che il matrimonio potesse essere sciolto, perché il divorzio era il dio tutelare delle nozze. Il matrimonio era sottoposto a una nuova legislazione dal 1792. L'età minima era fissata a 15 anni per i maschi e a 13 per le ragazze. Gli sposi giuravano di allevare i figli nell'odio contro i tiranni e nel rispetto dei diritti dell'uomo. Le prime parole che la madre doveva insegnare al suo bambino erano patria, libertà e uguaglianza. La moglie doveva servire la patria amando il marito e costituendo per la famiglia un modello di virtù. In effetti, durante la rivoluzione, alle donne toccò un peso notevole, la ricerca del nutrimento per marito e figli, perché, nonostante gli sforzi del governo, il cibo mancava, in quanto i commercianti lo nascondevano per venderlo clandestinamente ad alto prezzo. Davanti alle botteghe le donne si mettevano in coda già alle 4 del mattino, ma alle 8 o alle 9 il macellaio o il salumaio abbassavano la saracinesca avendo già venduta tutta la merce disponibile. Solo il pane si trovava sempre, presentando una tessera che ogni capofamiglia riceveva in dotazione. Ma la quantità di pane fissata da un decreto del governo diminuiva sempre. Nel 1793 era di 750 grammi, nel 1794 500 e poi addirittura arrivò a 250 grammi. Per tornare alle donne durante la rivoluzione, ricordiamo che negli anni della guerra, dal 1792 in poi, esse lavoravano al posto dei mariti chiamati al fronte. Nei laboratori, nelle botteghe, nelle fabbriche, la loro presenza era massiccia. Dalle 7 del mattino alle 7 di sera, donne di ogni età, bambine e vecchie, lavoravano senza sosta, perché il governo avesse, benché il governo avesse preso molte misure per il sostentamento della popolazione. Il periodo dal settembre 1793 a luglio 1794 si chiama terrore, perché vennero giustiziate 50.000 persone aristocratici, ma anche molti rivoluzionari accusati di aver tradito i loro ideali. Già nel 1792 si erano formati spontaneamente, su tutto il suolo francese, i comitati rivoluzionari per fronteggiare gli attacchi dei contro rivoluzionari. Col tempo si erano moltiplicati e nel 1793 furono incaricati dal governo di sorvegliare i sospetti e procedere eventualmente al loro arresto. Ma chi erano i sospetti? Erano nobili, parenti degli emigranti, sostenitori della monarchia, i nemici della libertà, termine generico sotto il quale finivano spesso anche i nemici personali. Un'atmosfera di generale diffidenza si diffuse in tutto il paese, chiunque poteva essere denunciato, e se ciò accadeva il suo destino era quasi sempre segnato. Dopo l'arresto il sospetto era rinchiuso in carcere, enormi stanzioni umidi e bui raccoglievano decine di persone. Enormi stanzioni umidi e bui. Il processo davanti al tribunale rivoluzionario istituito per giudicare i sospettati era senza appello e senza possibilità di ricorso. Il tribunale era formato da cinque giudici, un pubblico accusatore e dodici giurati. La sentenza doveva essere applicata entro 24 ore e i processi assisteva un fatto pubblico. La ghigliottina Dal 1792 funzionava a Parigi lo strumento di morte inventato dal dottor Guillotin, perciò detto ghigliottina. Il dottor Guillotin, sistemata definitivamente in piazza dalla rivoluzione, prima piazza Luigi XV, oggi piazza della Concordia, la ghigliottina funzionava a pieno ritmo. Vi avevano lasciato la testa personaggi odiati come il re e la regina, ma anche rivoluzionari come Danton e Robespierre, oltre a migliaia di aristocratici e di sospetti. I condannati giungevano su una carretta, in piedi, con le mani legate dietro la schiena. Intorno al patibolo i gendarmi trattenevano la folla. In prima fila, sedute su panchette, chiacchieravano e lavoravano a maglia molte donne avide dello spettacolo. Dal direttorio all'età napoleonica. Contadini e operai. Durante il direttorio vi fu un aumento della popolazione francese. Già nel 1792 gli abitanti erano saliti a 28 milioni. Dopo il 1795 aumentarono progressivamente, così come mediamente cresceva il benessere. Era più facile nutrirsi perché il nuovo governo incoraggiava la produzione agricola, anche delle nuove colture come il mais e la patata. Nonché il consumo di carne, applicando le convinzioni moderne, secondo cui l'alimentazione, a base di carne, rende più robusti. Allo scopo, vaste estensioni di terreno vennero adibite a pascolo. La rivoluzione aveva cambiato la vita di molti contadini. Metà di essi erano ora proprietari delle terre che lavorava, acquistate o dallo Stato, quando questo aveva sequestrati i beni del clero, o dalle famiglie nobili impoverite. I contadini subivano però un grosso inconveniente, la coscrizione obbligatoria, che imponeva l'abbandono dei campi e per periodi anche lunghi. D'altra parte, il servizio militare rappresentava per molti un vantaggio, perché i disoccupati venivano assorbiti dall'esercito. Il mondo contadino assumeva un nuovo rilevo. A Parigi veniva istituito il Ministero dell'Agricoltura. Il direttorio stabilì che il 10 messi d'oro, il 10 messi d'oro, cioè il 19 giugno, diventasse il giorno della festa dell'agricoltura, con concorsi a premi per i migliori prodotti e per la vacca più grassa. Anche la vita degli operai nelle città era cambiata in medio. Cresceva l'occupazione, perché il governo incoraggiava la fondazione di nuovi stabilimenti, offrendo crediti vantaggiosi. Si sfruttava al massimo la produzione di ferro delle miniere francesi, soprattutto per la fabbricazione delle armi. L'industria tessile, vecchia gloria del paese, veniva incrementata anche con la diffusione all'estero della moda. Della moda direttorio, corredata di guanti, cappelli e pizzi. Direttorio era anche una moda. Le fabbriche di porcellane e ceramiche, di carta, di candele, di birra, lavoravano a pieno ritmo, arricchendo i proprietari. I nuovi ricchi erano coloro che avevano fatto i soldi speculando con la guerra. Le forniture all'esercito rendevano molto bene e non accennavano a finire dal momento che la Francia continuava a essere in conflitto con l'Austria e i suoi alleati. La borghesia arricchita costituiva ora il ceto più prestigioso, sia in provincia sia a Parigi, essendo ormai decaduta la nobiltà. Durante la rivoluzione erano i migrati 17.000 aristocratici. Una parte di essi tornò in Francia solo dopo che il direttorio emanò un decreto per cui i patrimoni sequestrati inferiori ai 100.000 franchi potevano essere restituiti. I nobili rientrati, però, non riconoscevano il nuovo governo e vivevano ritirati nei loro palazzi o nei castelli di campagna in attesa di un nuovo periodo di splendore. Durante l'età napoleonica arricchirsi divenne sempre più facile, soprattutto per i borghesi, che, ricoprendo importanti cariche pubbliche, sapevano approfittare di vantaggiosi occasioni. Erano sempre più numerosi coloro che vivevano di rendita, cioè non lavoravano più e conducevano un'esistenza lussuosa con gli interessi del vasto patrimonio che avevano saputo accumulare in affari non sempre onesti. I ricchi si concedevano nuovi divertimenti e uno dei preferiti era cenare al ristorante. I ristoranti nascevano a decine, alcuni offrivano sino a cento portate. Del resto le abitudini alimentari dei francesi erano cambiate dopo la rivoluzione. In epoca napoleonica, il mattino presto si faceva una colazione a base di caffè o cioccolata con brioche, alle 11 uno spuntino, alle 2 il tè, la cena dopo il teatro. Il teatro, il teatro, ecco un passatempo per cui si andava pazzi. La comédie française era la più famosa istituzione teatrale. Molto amate erano anche l'opera lirica, l'opera comica e la commedia brillante. A Parigi vi erano più di 20 teatri. Per andare a teatro ci si vestiva elegantemente uomini e donne. Gli uomini imitavano la moda inglese di cui si erano adottati la reddingute, una giacca lunga e stretta e i pantaloni bianchi attillatissimi. Tra le donne si era diffuso lo stile alla rumana, pepli, abiti leggerissimi, bianchi, scollati, con la vita alta che lasciavano scoperte le braccia. Ai piedi non scarpe, ma sandali che facevano intravedere anelli d'oro alle dita. Le pettinature imitavano quelle delle statue classiche. L'imperatore, di origini modeste, aveva il culto della scenografia del potere, tanto che, installandosi alle tuilerie, a poco a poco rimise in uso le abitudini dell'antica corte. Questa mania dell'antico nacque sì dalle preferenze di Napoleone, ma anche dalla recente scoperta di Pompei, che aveva fatto conoscere la moda dell'antica Roma. Per tornare ai divertimenti dei ricchi parigini, non dimentichiamo le passeggiate nei bellissimi giardini pubblici, Tivoli, Ditaly, Monseu, Monseu, i balli, le gite in battello sulla Senna, le ascensioni in aerostato. Diffusissima era la lettura dei giornali. A Parigi ne uscivano duecento al giorno. La stampa era meno libera che durante la rivoluzione, ma essere aggiornati su avvenimenti e opinioni era giudicato indispensabile. Nelle campagne, invece, l'influenza dei giornali era nulla, le notizie arrivavano deformate o frammentarie perché la maggioranza dei dipartimenti, la Costituzione del 1791 aveva sancito la creazione del territorio francese nel territorio francese di 83 divisioni amministrative chiamate dipartimenti. Quindi le notizie in campagna arrivavano deformate e frammentarie perché la maggioranza dei dipartimenti non pubblicava neppure un giornale politico. Napoleone si preoccupò di diffondere l'istruzione ma riformò l'insegnamento superiore che interessava la borghesia e non la scuola elementare che sarebbe potuta servire al popolo. cioè riformò solo la scuola superiore. Eppure anche se in modo indiretto dopo la rivoluzione la conoscenza della lingua francese si diffuse largamente per la necessità di interpretare leggi e decreti di leggere manifesti di scrivere delle relazioni delle relazioni. Il servizio militare che costringeva i giovani a spostarsi di città in città di villaggio in villaggio serviva più della scuola.